POKEMON HORROR GAMES Questo gioco ragazzi è ispirato a una creepypasta abbastanza famosa che trovate in descrizione E nulla andremo a riviverla non me la ricordo bene quindi non so che cosa ci sarà e che cosa non ci sarà Non conosco il gioco nel senso che non l'ho mai giocato anche se lo seguo da tanto tempo La versione finale è uscita circa a novembre e oggi ho deciso finalmente di portarlo Ragazzi la creepypasta per l'appunto inizia con la schermata continua e col giocatore che la preme Questo ne sono abbastanza sicuro e quindi ragazzi continua Giocatore Blake Dovremmo trovarci al monte argento ragazzi Ok Interferenza a schermo Ok ricorda moltissimo Ricorda moltissimo alone.exe raga E dà anche abbastanza sui nervi sta cosa Ok Siamo congelati a quanto pare è tutto congelato Ok raga siamo ancora al monte argento giustamente Io non so sinceramente come Come andare avanti anche perché non vedo assolutamente nulla Mi raccomando ragazzi se vi piace questa serie lasciate un bel mi piace Ho freddo Ok perfetto Meganium è morto E non riesco neanche a controllare la mia squadra Fermi No 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 con calma Ok questo non lo posso aprire però forse Ok Cazzo Merda 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 Ok abbiamo i pokemon meno mati I meganium è messo decisamente male Mi sa che è morto Pidgeot gli manca qualcosa Oddio no alcuni pokemon sono messi bene raga Tiranitar mi sembra Oddio no forse è disanguinato come un pazzo Perfetto fermi Calma Non ho visto l'ugia però No voglio vedere statistiche io Ok no l'ugia mi sembra abbastanza normale Zaino Dire hit escape route Non posso tornare più indietro Revive Nessuno può essere salvato Ok abbiamo tutto al massimo Non si può utilizzare qui Ok basta Merda Inizia davvero male male Tra l'altro penso che Pidgeot è morto Oh cazzo Ok sta andando avanti così mi sa Vediamo se Eh Si ok Perfetto Muoiono piano piano Anche typhusion è morto in effetti mi sa Anche typhusion è morto Eh praticamente Ok ho come l'impressione che arriveremo Ho quasi la sensazione che arriveremo circa da red Con i pokemon tutti morti Oh raga proseguo nel nulla L'ugia è morto Ok Cazzo non me la ricordavo così la creepypasta Anche fralligator è morto Questo raga perché stiamo congelando A quanto pare Ok la grotta la grotta la grotta Tiranitar è morto Però ci siamo la grotta Ok fermi 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 Calma Calma Andiamo a vedere un attimo la situazione Merda Rimassa solo typhusion e sta Sta andando Sta andando tantissimo Oddio Cos'è quella roba Come se Oddio Che cosa brutta Vediamo qua Fermi Tiranitar è totalmente distrutto L'ugia non ha più parti del corpo Madonna 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 Che cosa brutta Ok questo sfocia quasi nel gore Fermi Voglio vedere Ok Siamo tristi Lo si vede dalla faccia Non abbiamo nessuna medaglia Cosa che è abbastanza impossibile A questo punto del gioco Pochi gear Ok è freddo Non si può Tra l'altro andiamo molto piano Perché probabilmente stiamo congelando anche noi raga Ok perfetto Non c'è audio ovviamente Vediamo se Vediamo se Non c'è red C'è una pokeball Oh cazzo Wild side be appeared Sì ma io non ho praticamente pokemon Nello lo sprite di gold È disastrato Merda Fermo 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 Cazzo Che cosa brutta Cosa è successo adesso No eh Oh stai fermi Mi incazzo Oh merda Come siamo conciati Ok I pokemon Sono circa Uguali Raga Sembra che fra alligator Ci abbia le budella fuori Dio mio Ho paura a vedere sta roba Porca puttana Siamo diventati dei puffi Siamo diventati dei puffi Facciamo un po' di ironia Su sta cosa Minchia ma siamo zoppi Raga Come facciamo a camminare Fa troppo freddo Oh Che è Bastardo Sti cambi di colore infame Mother it feels so cold Mamma fa così tanto freddo Oh cazzo Non si vede più nulla Perché ho Perché ho come la netta sensazione Che tra un attimo Mi esplode qualcosa In faccia Non posso tornare indietro Davvero Cazzo è vero raga Non si riesce Cos'è sta roba Cosa sei Ah è una grotta Ok Ma dove dievolo sono Ok Non posso aprire il menu Raga Ho come l'impressione No Merda 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 Ma questo è Fermi Questo è rosso Questo è rosso Questo è rosso Porca puttana Che cosa Ok proviamo a parlargli Oh merda È partita la battaglia Davvero Ma io non ho Oh cazzo Oddio Non crede Non crede morto Allora Ok Perfetto Non morire Tiflusion Flame Blast Venuto Struggle Oh cazzo Ho capito Raga Adesso lui farà Struggle Con ogni suo Pokemon Mi toglierà Un PS E si suiciderà Sempre Finchè non arriva A perdere Tutti i Pokemon E finchè non perdiamo Entrambi No aspetta Ok Oddio Anche Charizard Raga Forse ho capito Ci troviamo in una sorta di Questo schermo bianco Sembra secondo me Rappresentare un limbo Tra la vita e la morte Dove stiamo io e Red E adesso ci uccidiamo A vicenda probabilmente Ok Oh cazzo Ho come l'impressione Che quello sia uno squarcio Dio mio Dio mio Ok Questo gioco qua È abbastanza Non ha jumpscare O robe del genere Per il momento Però obiettivamente Che Pokemon è Oddio Espion Non l'ho neanche riconosciuto Non l'ho nemmeno riconosciuto Raga E l'ultimo Pokemon Raga Non poteva che essere Pikachu L'ultimo Pokemon È Pikachu Vediamo come Conce Merda Madonna Io sento l'audio altissimo Raga Non avete idea Ok Pain Split Cosa fa Ci siamo ammazzati A vicenda Merda Hai una brutta scena Red Ok Mi ha Mi ha turbato Non me l'aspettavo È finita Ok Ah oh Vaffanculo Sti cazzo di schermo Ste interferenze di merda Va che roba Va a cagare Fermo Merda Posso Posso Proseguire Cazzo Cazzo Si è spento il gioco Di nuovo Si è chiuso Ok Si è chiuso da solo Raga È finito anche questo Con questo finale Fastidiosissimo Ok Perfetto Ragazzi Anche questo video È concluso Che dire di questo gioco Ok È È ansioso È ansioso E sembra che debba venire fuori un jumpscare Da un momento all'altro Però non viene mai fuori E devo dire che sinceramente Mi è piaciuto abbastanza Quindi ragazzi Mi invito Se Questo video vi è piaciuto Lasciare un bel mi piace Farmi sapere cosa ne pensate del gioco Mi raccomando Lasciate un commento qui sotto In iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Passate i social in descrizione Per rimanere sempre aggiornati E premete la campanella Per ricevere i feed di ogni video Detto già ragazzi Noi ci becchiamo Per l'appunto In un prossimo video